Il candidato sindaco di Salerno Antonio Camarota, ora neoconsigliere comunale, interviene sulla questione degli appalti truccati che ha visto anche l'arresto ai domiciliari del consigliere regionale e già assessore al comune di Salerno Nino Savastano. Dice di confidare nella magistratura ma ripercorre i fatti già all'attenzione della commissione Trasparenza a Palazzo di Città. Il lavoro della commissione terminò nel momento in cui la vicenda fu portata in consiglio comunale e ci sono gli atti sotto gli occhi di tutti che raccontavano di alcuni passaggi poco chiari. Poi vi furono denunce alla procura dell'area pubblica da parte di alcuni consiglieri comunali per cui la vicenda venne meno dal punto di vista istituzionale perché il costume della commissione Trasparenza è sempre stato quello di fare trasparenza sugli atti amministrativi, sugli atti di indirizzo politico ma naturalmente non quando si andava in atti giudiziari. Proprio come avvocato credo che questa vicenda meriti un'attesa perché si chiariscano bene ruoli, posizioni innanzitutto nel rispetto degli indagati, questo va detto immediatamente, ma poi anche per il rispetto per le istituzioni che gli indagati evidentemente rappresentano. Occorre far chiarezza nel massimo rispetto del principio di non colpevolezza ma anche nel massimo rispetto del principio di integrità e di efficienza delle istituzioni pubbliche.